Una prova veloce? Volete vedere una prova voi? Forza ragazze! Ce l'abbiamo una basetta musicale, Rosario? Facciamo una prova di improscinamento ma ci vuole l'applauso del pubblico Vai ragazzi, improsciniatevi Fatemi spugne e pelle ragazzi Stracciatevi i pilabietti che rient Massaggiatemi la schiena Fatemi sentire sensazioni belle e positive ragazzi E ora l'accompagnamento di mani Qualcuno che si mette davanti? No? Vogliamo fare un incastro positivo? Ok, avete capito, no? Stacchiamo un attimo Rosario, ragazzi però levatevi davanti alla console di Rosario Allora, volete una lap dance sui sui che hanno fatto una strusciatella così? Oppure una lap dance... Se volete una lap dance... Se volete una lap dance... Se volete una lap dance sui sueni simga... a dire a me, buttate e sovrimo rimane. Allora fatemi... Ehi, faccio la macchina, eh, facciate. Deve pagasse tu scurna a chiada, fatendo capas. Senti, eh, questo è questa bomba, ma non è la cisa, saluto. Ah, un momento, andate a spiegare. Arracco una poco a passire, lui, scusa. Allora, belli, se volete una lapidanza suoi, suoi, senza niente, al mio vi ho fatto un applauso, un due, tre via. Oggi ho con il famonello, io amo trovare. Senza offre, se per morire, ti preoccupare. Se invece volete una lapidanza bella, che s'anna a stracciare le panna con le mutande s'anna a sopà, fate un urlo al mio via. Via! Anzi, ci stanno parecchi malaterra a tu, soggio, mezzo a mezzo a corte, eh. Ho preso il femmino, guarda là. Lo sanno la scogna, non è un po' subito là. Ah, eh. Allora, ragazzi, fate i pali. Alzzate il cielo. Eh, die, die. Ha pigliato un vaso di terra a cotto, chiesto. Vieni a qua. Miente da qua, non sono a qua. Forza, mettetevi un altro da qua, non. E' un altro po' più. Eh, va, partitevi un po', se no, va a seccare la panza e il culo, capi? Ora facciamo la lanza, la potenza del gay pride. Allora, ragazze, appogliatevi. Allora, chi si dà il culo che ha a botto? Chi si dà il scartile? E chi si dà il niente? Quindi, ritene poco. Forza, ragazzi, appogliatevi. Una qua, l'altra là e l'altra qua. Ragazzi, loro stanno recitando. Non sono delle... Come si chiamano? Come? I cessi. Non sono, diciamo... Come si chiamano? Che li... Fa navi di là. Le luciole. E che si accoppiano? Che scarraffuno, non è? Sono sti luciole. No, ma si chiamano quelli là. Ah? Zoccolo. Addirittura è zoccolo. Dov'hai affezo il zoccolo, tu? E su ris? No. Come? Il modello. Ah, pure loro fanno questo. Quindi, buono. Chiamiamole... Le sussine, va bene? Dite, vai, vai, sussine. Siete pronti? 3, 2, 1... Ragazzi, posizione. Non vogliamo avere un'annanzare, delata, testa, coppa, so. Non la da fare capire niente, sti voglio. Chi si emoziona di più? Ah, buono, chi si già sta emozionando? Chi si emoziona di più? Fa vincere la maglietta. Siete pronti? Pubblico, siete pronti? 3, 2, 1... Siete pronti? 3, 2, 1... 3, 2, 1... Vai ragazze! E noi portiamo in alto le mani! Guarda un po' che si sta pirando qua, qua. È visto? Eh? Ho aglioncello con un matrezzo campanello. Vai, Cicci, vai! Vai, Mennè! Ho aglioncello che sta per me, addirittura. Vai, Cicci. Avete gli ultimi 10 secondi di esplosione sexy! Vai, tesoro, vai! Vai che sta uscendo pure il capeglielo da fuori, vai! Vai, Mennè, vai! E l'ultima posizione davanti la dovete fare. Mettetevi davanti a questi ragazzi. Guardate il pubblico e inchinatevi piano piano per ringraziare. Pronti? Facciamo un applauso a queste ragazze! Ragazzi, allora, fatemi... Mi sta zocco la capo, ma posso... Fatemi una prova d'applauso da sei. Vai! Grazie. 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 Grazie.